Già docente di calcolo delle probabilità all'Università della Sapienza di Roma, tra l'altro candidato sia nel Senato del Lazio per la lista Amnistia, Giustizia e Libertà. Allora, Romano, professor Romano, intanto ci sono un sacco di belli spunti, tra l'altro chi ha seguito il tuo intervento al recente Comitato dei Radici Italiani se ne sarà reso conto, un intervento assai illuminato. Entriamo subito nei dettagli tecnici. La prima domanda, quella più semplice, è quella che probabilmente si fanno la stragrande maggioranza delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori. Come mai questa grande disparità che in certi casi si ravvisa, in molti casi si ravvisa, tra sondaggio e sondaggio? Beh, intanto preliminarmente direi che tutti i sondaggi hanno comunque un carattere probabilistico e quindi tutte le cose del mondo che hanno carattere probabilistico non possono mai essere fatte con affermazioni apodittiche se succede questo o questo, perché succede questo o quest'altro o quest'altro con una distribuzione di probabilità. Quindi più che accusare i sondaggisti di imprecisione, diciamo, prima di tutto va precisato che è strutturalmente necessaria questa imprecisione. Quello di cui semmai li accuso, se vogliamo usare questo linguaggio, è che non viene detto in maniera trasparente che c'è questa incertezza. Cioè vengono dati i numeri e non si specifica quanto andrebbe specificato, cioè con molta enfasi, che ci sono questi intervalli di incertezza. E quindi la gente legge quei numeri e pensa che sia la verità, insomma. Ora, la diversità tra un sondaggio e l'altro è legata al fatto della scelta del campione, perché il campione ha delle caratteristiche che si chiama di stratificazione. Cioè uno vengono scelte le persone in base a certi parametri che sono, che ne so, sesso, età, grado di istruzione, professione, regione di residenza. In modo da rendere, per quanto più possibile, la scelta della persona interrogata equiprobabile. Cioè che tu non scegli una persona preferibilmente rispetto a un'altra. Però chi l'ha detto che conta lo stesso sesso, conta avere la stessa fascia d'età, conta avere la stessa provincia di residenza? Chi l'ha detto che siamo equiprobabili come scelte? Quindi questi criteri ovviamente sono soggettivi. Questo ovviamente non si può fare nessuna accusa ai sondaggisti. I criteri debbano in qualche modo fissare. Quindi vengono fissati questi criteri. Se un altro ente fissa altri criteri, il campione viene diverso. Perché se invece di prendere sesso, età, grado di istruzione, professione, regione di residenza, prende altre cose, inutile che sta per il tempo a elencarle, oppure alcuni di questi o di meno, è chiaro che può venire un campione diverso. E quindi questo già è un motivo. E poi dipende dal numero di intervistati. Tutte le interviste, in genere, guardando poi sul sito del Ministero le caratteristiche, queste non vengono dette nella trasmissione o nel giornale dove vengono pubblicati i sondaggi, e poi se uno vuole le va a guardare sul sito del Ministero, cosa che poi il grande pubblico ovviamente non fa, si accorge che gli intervistati sono circa 800, massimo 1000, su una popolazione di votanti di 50 milioni. Quindi è un campione abbastante irrisorio come numerosità, come rappresentatività. Per giunta, e poi mi taccio e ti lascio. No, 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 è tutto molto interessante. Questi 800 escono fuori dopo aver rifiutato delle risposte, perché loro hanno l'80% di rifiuti, quando in telefono le persone. Prendere un campione che prima è stratificato con una certa accuratezza, usando quei parametri che ho detto, dopodiché il parametro rifiuto non lo puoi fissare a priori, perché non puoi sapere chi rifiuterà. E quindi il campione alla fine viene distorto, perché c'è questo fattore di cui non hai tenuto conto, che sposta la scelta degli interrogati su quelli che vogliono rispondere. Alcuni dicono, ma tanto poi gli altri sostituti li prendono dallo stesso campione stratificato, quindi lo sostituisco con uno, è sempre più probabile. Sembra che sia così facile, non è così. Se tu pensi, ti rubo ancora qualche secondo, parliamo dell'otto, se c'è una cosa qui probabile, che è chiaro e che non c'è bisogno di stratificare, è l'estrazione dall'otto. Allora, Dino Marafioti viene incaricato di estrarre i cinque numeri dell'otto. A lui gli sta antipatico il 17 perché è superstizioso, quindi estrae, alla terza estrazione gli capita il 17, lui lo scansa e ne estrae un altro. E quindi alla fine c'è cinque numeri in cui l'ha alterata la cinquina, perché il 17 non gli piaceva e l'ha levato. Ora questa cinquina chiaramente non è che probabile alle altre, perché è stata alterata dalla scelta di Marafioti, che non sapevo io che era per superstizioso che mi levava. Cioè addirittura questo può accadere. L'analogo è il rifiuto, no? Poi si dice, ma il rifiuto poi lo prendono sempre da quelli che erano già riprobabili, ma anche nell'otto gli altri sono riprobabili, ma se io non ho levato uno ho cambiato le carte in tavola. Mi interessa anche una digressione sul metodo, perché la stragrande maggioranza, credo anche tutti, di questi sondaggi che girano, è basata sul cosiddetto metodo Cati, e cioè quello delle telefonate ha un'utenza fissa. Allora qui c'è da dire due cose, e l'hai detta molto efficacemente nel tuo intervento. La prima, le utenze fisse sono sempre di meno, nel senso che ormai si usa molto più spesso l'utenza mobile, quella del cellulare, e per quella c'è bisogno di tutta una procedura, di autorizzazione, e quindi viene escuta. Per la verità, scusa se ti interrompo, qualcuno ancora adesso già sta usando un po' di telefoni mobili, però è una cosa eritoria, per cento eritoria. E secondo, perché quell'utenza fissa, inevitabilmente, è legata a un titolare, quello che ha questa utenza fissa, che è il capo famiglia. E questo, ritorniamo un'altra volta al discorso delle alterazioni del campione, ma qui ti lascio proseguire. Sì, appunto, il capo famiglia diventa ancora una distorsione, non se l'ha tenuto conto nei fissari parametri, a parte che potrebbe anche non essere intestato il capo famiglia. In realtà poi andrebbe fatto, quando qualcuno ti risponde al telefono, di scegliere a caso un componente della famiglia chiedendo a quello che risponde di procedere in questo modo. Chiaramente nessuno intervistatore è così scrupoloso, non lo fa, e quindi tu hai una distorsione legata al fatto che ti risponde uno che non rispettava i canoni della stratificazione del campione già fissati. Se questo uno vuol capire bene come siano poco scrupolosi gli intervistatori, perché poi tirano via, perché ne devono intervistare tanti, perché ne devono intervistare solo 800, per la meno 800 ne devono intervistare tra i 4 mila, perché poi con il rifiuto dell'80%, non capisci che 800 che ci dicono che ne hanno sentiti molto di più, e quelli gli hanno detto di no. Allora tirano via, e c'è una testimonianza molto bella su un articolo di Laura Arconti. Laura Arconti due anni fa, su Notizie Radicali del 22 dicembre 2010, ha raccontato una telefonata che gli hanno fatto per i sondaggi, e qui non perdo tempo a raccontartela, perché non abbiamo molto tempo, ma basta andare appunto su Notizie Radicali del 22 dicembre 2010, e Laura Arconti descrive benissimo come questi intervistatori siano del tutto non professionali, nessuna scrupolosità, perché tendono ad andare veloci, perché poi hanno bisogno di fare altre domande. Allora... Questo distorce ancora di più la statistica. Ecco, anche la qualità delle domande può distorcere. Le famose discorse chiuse o aperte. Spiegaci meglio. Chiuse e aperte, allora, per esempio, quando chiedono, su Ballarò spesso la gente cosa pensa come dei leader, chi vorrebbe come leader, come Presidente del Consiglio, ti fanno una sfissa di nomi, ma non dicono che i nomi li hanno già fissati loro, hanno detto che devono scegliere fra questi. Se io voglio dire Presidente del Consiglio, Dino Marafioti, non lo posso dire, perché non me l'hanno messo nella lista. Hai fatto il bel esempio di Emma Bonino. E appunto, poi una volta a Ballarò fecero l'errore di fare la domanda aperta, ma Bonino arrivò prima fra i politici, fu preceduta solo, mi pare, da altri tecnici. Arrivò prima con il, mi pare, il 47% contro il 45% a Bersani e Pindi, il 44% a Vendola, il 43% a Casini. E quindi accortisi di questo, virgolette, errore, chiuse virgolette, alla postata successiva hanno fatto la domanda chiusa e la Bonino l'hanno levata fra le possibili candidati. Quindi non appare più, la gente dice che la Bonino non la vuole nessuno. Certo, non la mettono nemmeno nell'elenco dei possibili risposte e questa sarebbe la risposta chiusa, no? Dare un elenco. Mentre invece la risposta aperta è chiaro che è molto più difficile, perché è quello che deve gestire il sondaggio, perché la risposta aperta quello può dire quello che vuole, tu poi devi andare a elaborare le risposte, perché oltre che a dire un nome potrebbe fare dei commenti, quindi ci sarebbe tutta una procedura che in un certo senso li capisco, no? Devono sopravvivere, non possono fare le cose troppo bene, ma infatti non gli accuso di fare le cose che poi non è che sono solo fatto male, come dicevo prima, sono strutturalmente incerte perché probabilistiche. Quello che dico è che non viene detto in maniera chiara, esplicita e lampante, guardate, però che ci sono queste limitazioni, tipo l'intervallo di incertezza del 3% e così via, no? Specialmente poi quando non sono domande del tipo sì o no, perché domande sì o no, allora lì è più facile, perché l'errore si calcola facilmente, ma quando hai una distribuzione su 15-20 partiti, siccome l'errore maggiore viene sui numeri piccoli, no? Perché se l'intervallo di incertezza è il 3%, è chiaro che non ha senso dire che la rifondazione comunista dall'1 e 2 è passata dall'1 e 3, fa semplicemente ridere perché con quel campione corrisponde a un intervistato in più o in meno, insomma, no? Quindi, però loro danno questi numeri e la gente non capisce, è passato dalla settimana scorsa dall'1 e 2 all'1 e 3, ma tutte le percentuali minori di 3, no 0-3, di 3, 3 intero, non hanno senso, no? E quindi quando vengono spalmate sui partiti è chiaro che i partiti piccoli si spartiscono tutti quei numeri che stanno intorno sotto al 5, diciamo, e quelle quindi sono tutte falsate. Mentre se mi dici che sull'eutanasia sono favorevoli l'80% delle persone, quella è una domanda sì o no, e quindi se non è l'80% sarà tra il 77% e l'83%, vuol dire che sostanzialmente uno può dire, beh, anche se un sondaggio è attendibile, insomma, no? Perché... perché...